buona giornata ancora una volta insieme news cappuccino brosce riparte la rassegna stampa tutti i giorni 6 e 30 puntualissimi e poi con la replica alle otto e mezza un buongiorno dicevamo non sono solo andiamo subito a salutare ringraziare anche martina beraldo che oggi sostituisce il nostro consueto tiziano per quanto riguarda la parte tecnica ci accompagnerà infatti in regia per i prossimi 60 minuti di trasmissione ricordiamo sempre anche le nuove persone che si fossero oggi sintonizzate per la prima volta che la rassegna stampa insomma così gode anche della possibilità di interagire da parte vostra grazie ai tanti messaggi che ogni giorno poi arrivano altri se ne aggiungono dove è possibile inserire quindi commenti considerazioni oltre ai tradizionali buongiorno e saluti il numero per farlo in sovimpressione 327 94 39 574 anche oggi tante le notizie che dovremo vedere insieme ma partiamo 30 secondi un minuto con un aggiornamento della notte perché pochi minuti fa ancora protezione civile della bassa frulana ci ha fatto sapere di essere rientrata dopo le ricerche che ormai sono già scattate da diverse ore ovvero dalla tarda sera di ieri si cerca una persona infatti alla tisana bassa frulana provincia di udine la persona che si cerca e non ha fatto rientro ieri sera è mario barbanna appunto non rientrato a casa l'ultima volta a detta delle forze dell'ordine è stato visto a piedi verso le ore 17 ancora non è chiaro qualcuno testimonia le ore 16 comunque sul ponte da la tisana verso san michele al tagliamento in provincia di venezia l'uomo porta un giubbotto blu pantaloni beige scarpe marroni occhiali da vista chiunque l'abbia visto chiaramente è invitato così a contattare il numero unico dell'emergenza l'112 dicevamo che sono scese in campo per le ricerche dell'uomo oltre alle squadre di protezione civile del quale abbiamo visto anche già qualche scatto della notte anche carabinieri polizia locale vigili del fuoco che appunto continuano a cercare l'uomo mario barban classe 1946 uscito nel pomeriggio di ieri che non ha fatto purtroppo più rientro a casa quindi per tutta la trasmissione cercheremo di ricevere ulteriori aggiornamenti se ci saranno li daremo in diretta dopo questa notizia all'ora della notte un aggiornamento in tempo reale andiamo invece con il messaggero veneto partiamo con le consuete prime pagine dei giornali l'analisi e poi invece l'approfondimento abbiamo la prima novità che quale apre oggi l'edizione il quale riferisce benedetti diventa presidente sono 68 per cento i voti ricevuti il numero uno di danieli è stato eletto al vertice di confindustria mareschi va la delega al programma giampietro benedetti quindi nuovo presidente confindustria udine subentra a mareschi anna danieli come detto giunta alla fine del mandato ancora cronaca andiamo invece in centro pagina oggi messaggero veneto parla dell'assalto dei novax all'ospedale di pordenone sono stati fermati dalla polizia sul spalla di sinistra abbiamo il commento da parte del vice direttore del quotidiano paolo mosanghini quel dissenso diventato provocazione oggi appunto sulla spalla sinistra mentre invece ci portiamo su quella di destra per andare a vedere le cronache andando anche nella città di udine descritte leggiamo insieme banca intesa chiude quattro sedi in piazza duomo restano solamente gli uffici e poi l'addio ladrio a bruno cittaro storico esercente gestì anche l'europa e poi un lutto per la scomparsa dell'ex presidente dell'azzura calcio abbiamo la storia che fa che occupa lo spazio del fondo della prima pagina del messaggero io azzannato da un lupo da un lupo dubbi degli esperti questo è quanto oggi viene approfondito poi alla pagina 29 dello stesso giornale vediamo per chiudere invece il taglio alto ci sono due ulteriori notizie il primo lo sciopero generale è il giorno della prova di forza di cgl will oggi 16 dicembre invece dall'altra parte artigianato un anno di ripresa in trainanti l'edilizia e la logistica ancora buongiorno andiamo allora rassegna stampa l'analisi delle prime pagine oggi ne dico la passa direttamente al gazzettino che si occupa subito di scuola perché ieri scattato quindi l'obbligo della vaccinazione emerge che il 15 per cento e senza il pass difficile andare a sostituire rimpiazzare in tempi brevi il personale che non è in regola le graduatorie sono esaurite i contratti ballerini non si trovano quindi candidati allo string scoperti rimossi diversi volantini novax e poi controllati 83 sia nei bus che nelle palestre è arrivata pure una sanzione da 600 euro poco sotto si legge civibank l'opa a marzo ma non ci sarà la fusione l'offerta di sparcassa più tardi all'inizio aprile garantita l'indenità proprio dell'istituto finanziario andiamo ora invece nel centro pagina abbiamo un'immagine che già stiamo vedendo insieme per quanto invece riguarda in questo caso il calcio come sempre mazzocato benedice la dacia arena sotto il titolo l'arcivesco ludinese è un simbolo sono le sue parole la spalla di destra ci porta invece altre informazioni ce ne sono due una legata ai lupi del quale già abbiamo iniziato a parlare ieri con la notizia di cronaca arrivata dalla montagna un uomo aggredito si parla pure di federcaccia che fa un esposto l'aggressione del giovane di santa caterina morsicato infatti alla mano con un sospetto imbino canelupo che è entrato in abitazione ha creato quindi allarme nel tervisiano fendercaccia ha presentato un esposto alla procura affinché si vada a verificare se sia stato fatto tutto il possibile per tutelare proprio l'incolumità di quella popolazione cronaca furti blitz in azienda abbiamo un colpo da 25 mila euro non si fermano le scorribande dei ladri tra le abitazioni non solo nelle case private ma come si legge proprio nelle aziende friulane il taglio basso si occupa invece della nomina come abbiamo aperto tra l'altro poco fa con il messaggero veneto di benedetti che schiera la sua squadra eletto giampietro benedetti nuovo presidente di confindustria udine dall'assemblea dei delegati che si è riunita proprio ieri pomeriggio a palazzo toriani benedetti subentra ad anna mareschi danieli andiamo sopra invece a chiudere taglio alto sempre del gazzettino dalla collaborazione tra i tre allegri ragazzi morti col veleno nasce la gente libera e poi mittelfest mittelian 2022 apre al circo e agli imprevisti call per 27 paesi autonomie locali è stato approvato dal consiglio il piano trennale ict ed ora invece è il momento di chiudere le prime pagine andando però a vedere insieme anche come decide di aprire il giornale piccolo il lavoro la gita il pieno le deroghe sul confine abbiamo parlato molto da inizio settimana anche della nuova ordinanza del ministro della salute roberto speranza con per quanto riguarda tampone per tutti vaccinati e non ma pure la quarantena di cinque giorni per chi non ha l'avuto l'immunizzazione in questo caso invece abbiamo la deroga che si legge bene con tutte le nuove misure quindi nessuna quarantena e nessun tampone c'è questa deroga per i trasfrontalieri che fanno un po la spola tra slovenia e trieste vanno però rispettati i limiti di tempo e le distanze abbiamo poi in breve lo strappo di draghi il premier conferma la stretta sugli arrivi pordenone l'occupazione novax dell'ospedale fallisce puzza riceve un foglio di via dall'intero comune di pordenone per tre anni l'appello dei medici assistenza tagliata vaccinatevi subito il centro pagina la foto le previsioni la città delle crociere con il doppio di toccate e più di 400 mila turisti per trieste la cronaca sulla spalla di destra il piano della cabino via accende il dibattito tra i favorevoli ma anche chi è contrario all'iniziativa poi sotto tre ragazze che decapitano la statua della pecorella nel presepe che si trova in piazza la nonna il contabile gli altri fan del francobollo speciale chiude la spalla invece la pedalata in cavana per far accendere le luci dell'albero di natale vediamo anche il taglio alto pure del quotidiano il piccolo piano generali maxi dividendi 3 miliardi per acquisizioni calta al girone del vecchio preparano l'affondo al vertice allora ancora buongiorno 16 dicembre abbiamo già visto insieme le prime pagine dei quotidiani della regione friuli venezia giulia diamo uno sguardo all'informazione nazionale corriere della sera si parla moltissimo del premier draghi che va a difendere la stretta del quale abbiamo parlato nelle ultime 48 ore parliamo della stretta proprio ai confini prima di rientrare in italia tampone per tutti e quarantena per i non vaccinati il premier all'unione europea ribadisce sono necessarie le limitazioni viaggi via poi ai vaccini per i bambini bruxelles replica non vanno adottate misure sproporzionate scoperti poi dei falsi per quanto riguarda i green pass che andavano così quindi a crearne di altri ma in modo fraudolento sotto si parla di omicron cosa sappiamo si parla di dati tutte le indicazioni al momento circa la nuova variante che in parte spaventa l'europa e non solo ministro garavaglia troppa fretta serviva un preavviso rispetto a quanto draghi ha deciso e governatori fontana e luca zaia ora dateci più autonomia presidenti della regione di veneto e lombardia chiedono appunto capacità e poteri decisionali legati alle loro regioni e alle loro leggi andiamo invece con il centro pagina l'immagine la battaglia della cantante contro il porno la stare la confessione rovinata da dei video hot riforma fino a 3.000 euro di tasse rispermiate ecco chi guadagna con il nuovo fisco la repubblica oggi apre ancora con il green pass che va a dividere l'unione europea molti non si trovano affatto d'accordo con la stretta voluta da draghi molti dicono sia stata troppo soprattutto legato al tampone per le persone vaccinate critiche da bruxelles all'italia per l'obbligo del test naso faringeo alle frontiere ma altri paesi però dicono siamo pronti anche noi ad alzare le barriere draghi replica difenderò la normalità con i denti è costata 134.000 decessi rispetto al 2020 abbiamo più contagi ma meno ricoveri questo fa sapere l'istituto superiore di sanità abbraccio virtuale tra putting e scì contro l'occidente e poi sotto cosa ci insegna il lessico del virus altre due notizie l'analisi aziende in vendita i conti sbagliati dei patriotti poi finanza generali donne presenta il piano freddo il mercato come apre la stampa e poi ci fermiamo un attimo torniamo ancora su draghi omicron va fermata anche l'unione europea valuta la stretta prima le critiche rispetto alle decisioni del premier per l'ingresso in italia dall'unione europea poi qualcuno che appunto va ad appoggiare quanto draghi ha messo in piedi bruxelles con costretta la retromarcia sui test ai confini poi si parla dei primi vaccini ai bambini a destra ora gli eco fascisti sfruttano il clima contro i migranti a sinistra così cambia l'irpef un mix che aiuta i redditi più bassi le ultime due immagini l'appello di roberto bolle no allo scempio sulla danza e il nuovo regolamento che vieta i colori tatuaggi stop inchiostri a rischio con questo allora siamo prontissimi per andare con l'approfondimento per quanto riguarda le principali notizie argomenti che già assieme abbiamo visto in questi 12 minuti questa mattina 16 dicembre appunto con la rassegna stampa stiamo seguendo in diretta anche le ricerche di una persona scomparsa la tisana bassa frulana provincia di udine del quale già abbiamo mostrato pure alcune immagini e un reso conto di quanto riferitoci dalla protezione civile rientrata questa notte senza ulteriori novità saremo chiaramente prontissimi poi a ripetere l'annuncio tra un po al rientro dalla pubblicità allora piccola pausa poi ci ritroviamo qui e sarà ancora news cappuccino e brioche allora buongiorno le persone collegate con noi vado a fare un saluto a coloro che sono su facebook ci seguono in streaming buongiorno cara mariana grazie per le 200 stelline grazie per il tuo supporto ti auguro una buona giornata e un buon lavoro anche a te fedelissima allora detto questo prepariamo pure messaggero e poi vorrei leggere già i primi messaggi che ho in coda perché vedo che arrivano un sacco di notifiche dalla app dalla applicazione proprio di whatsapp allora chiudiamo le prime pagine dei giornali scusatemi ora rallento un attimo perché abbiamo un attimino di pausa in pubblicità in televisione e per cui poi riprenderemo invece con quanto è successo a pordenone parleremo dei novax insomma quanto ci ha riferito almeno la questura di pordenone rispetto a questo e la manifestazione non autorizzata allora altre notizie buongiorno roberto buongiorno a tutti dalla tisana che dispiacere per la scomparsa di mario barban speriamo che si risolva tutto per il meglio siamo vicini alla famiglia con affetto grazie a una telespettatrice che ci scrive appunto dalla tisana riguardo alla scomparsa dell'uomo di cui stiamo parlando classe 46 del quale stiamo aspettando ulteriori notizie rispetto alle ricerche della notte anche se da un primo messaggio così informale diciamo non ufficioso alla protezione civile i ragazzi ci dicono che non ci sono state novità almeno alle 2 30 di questa mattina non ce n'erano buongiorno a tutti a voi da maniago florence buongiorno cara poi il tentato assalto di novax all'ospedale di pordenone fa capire quanto ci sia ancora da lavorare per rendere comprensibile la necessità del vaccino chi non vuole vaccinarsi al diritto al dissenso ma non può pretendere che la sua posizione sia quella giusta un lungo messaggio da parte di un'altra persona buongiorno a tutti siete bravissimi grazie non si firma firmatevi quando mandate anche un bel messaggio come in questo caso è un complimento farebbe piacere mettere un nome una località così diamo un contesto oppure a questi diversi messaggini che continuano ad arrivare detto questo volevo salutare e ringraziare però non so se l'ho fatto i sostenitori della pagina grazie martina che mi dice 30 secondi e torniamo in diretta i sostenitori coloro che condividono coloro che inviano un po di stelle quanti poi invece ci seguono nelle smart tv più tardi grazie all'applicazione youtube quindi salutiamo anche loro ricordando però sempre la replica come tanti continuano a chiederci che va in onda alle otto e mezza del mattino ora torniamo in diretta in televisione se volete accenderla sul canale 11 siamo anche lì ancora buongiorno torniamo queste news cappuccino brioche l'informazione legato alla rassegna stampa e allora tutte le mattine 6 e 30 e poi più tardi alle otto e mezza con la replica come molti ci stanno chiedendo allora abbiamo già visto insieme le prime pagine oggi dei giornali sono tanti messaggi che continuano ad arrivare per quanto riguarda insomma sia gli argomenti del giorno ma poi anche la notizia della scomparsa di un uomo come ci dice un'alta telespettatrice buongiorno roberto buongiorno a tutti dalla tisana che dispiacere per la scomparsa di mario barban speriamo che si risolva tutto per il meglio siamo vicini alla famiglia con affetto allora tra un po andremo quindi a ribadire l'appello per quanto riguarda questa notizia di cronaca che stiamo seguendo in tempo reale mostrando poi anche alcune immagini sia delle ricerche scattate e che sono appunto andate avanti hanno proceduto durante la notte sia anche riguardo al volto della persona occupiamoci un momentino pure delle prime notizie approfondimento che leggiamo insieme dal quotidiano messaggero veneto ieri questura di pordenone fa sapere che è stata sventata all'ospedale l'occupazione della dirigenza da parte dei novax è stato espulso stefano puzzeri il portuale ormai noto ha ricevuto un foglio di via di ben tre anni dall'intero comune di pordenone protesta si legge ancora sotto stata organizzata per esprimere la solidarietà ai sanitari sospesi sono stati poi identificate denunciate almeno 100 persone il portuale riceve il foglio di via stefano puzzeri arrivato poco dopo le ore 12 quando la manifestazione stava scemando in quel caso è stato invitato dalla digos ad allontanarsi e ad andare seguendoli in questura l'uomo si sarebbe intrattenuto ancora a parlare con altre persone dopodiché una volta arrivato alla questura marco odorisio il questore ha deciso di allontanarlo per tre anni proprio dalla città dopo il recente quello legato alcune settimane fa proprio allontanamento per quanto concerne la capitale da roma vediamo ad integrazione alcuni scatti grazie sempre al messaggero per quanto riguarda le persone fuori dall'ospedale una manifestazione come ricorda il questore che non è stata né preavvisata tanto meno così autorizzata ancora vediamo l'immagine pure di Puzzer poi digos e polizia che lo invitano alla questura la conta dei non vaccinati nelle forze dell'ordine nella pagina accanto la situazione non saranno sostituiti siamo preoccupati è proprio il segretario regionale del sindacato autonomo della polizia a riferirlo hanno fatto i conti senza l'oste sarà difficile assicurare i servizi ribadiamo ancora per chi ancora non lo sapesse che dalla giornata di ieri è scattato l'obbligo del vaccino non solo nelle scuole per docenti e il personale ma anche nelle forze dell'ordine polizia e militari legato al contagio oggi abbiamo notizie non rassicuranti perché il bollettino di ieri ha avuto una vera e propria impennata si parla di 810 nuovi contagi e 14 decessi da ieri appunto sono rimbalzati decisamente verso l'alto dopo le rilevazioni quelle che abbiamo già riferito nei giorni scorsi della settimana appena passata quando avevamo mostrato un grafico di lenta ma comunque discesa del contagio che erano più contenuti soprattutto inizio settimana tra lunedì e martedì oggi riportato il bollettino oltre 800 casi 182 nuovi contagiati under 19 14 decessi su quelli che sono ormai saliti a 30 ricoveri in terapia intensiva 297 invece quelli che occupano un posto letto nelle aree mediche abbiamo già parlato di draghi per quanto riguarda oggi le prime pagine che hanno fatto così da padrone il titolo legato alla nuova stretta per l'italia e poi si parla invece legato alla nazione oggi la giornata di sciopero l'italia che sciopera è il titolo seguente cgl will alla prova di questa partecipazione cis le partiti sono contrari landini e bombardieri c'è un'emergenza sociale ascoltatici vediamo allora legato a questo sciopero diamo qualche dettaglio in più 16 dicembre cgl e quindi will per l'intero turno di lavoro 8 ore di disagi possibili il settore rischio blocco saranno la pubblica amministrazione l'industria i servizi bus metro aeree e navi chi non si ferma e quindi procederà dove non è interessato lo sciopero saranno sanità scuola poste nettezza urbana eppure ferrovie minori manifestazioni principali si terranno nelle piazze a milano roma bari palermo e cagliari questo insomma in sintesi per riassumere quanto appunto legato allo sciopero di oggi si procede ancora per quanto riguarda notizie che arrivano anche dalla regione non solo si parla molto di economia nel messaggero veneto nelle pagine successive le differenze tra classi di reddito riforma dell'irpef sciopero di oggi ecco chi ci perde e chi ci guadagna oggi abbiamo un approfondimento pure legato a questo torniamo ancora una volta con il volto dell'assessore regionale alle finanze barbara zilli fondi per i consorzi industriali negozi di vicinato e logistica avviato l'iter per l'ok alla manovra che rispetto al 2020 pesa 266 milioni in più l'assessore zilli obiettivo raggiunto grazie alla rinnegoziazione sempre dei patti statali da un po ci occuperemo pure di benedetti che è stato rinnovato per la presidenza di confindustria udine ma è il momento prima di proseguire con l'intera provincia di udine e un po di economia di spostarci nel quotidiano il piccolo salutando sempre le persone pure collegate da trieste provincia di gorizia che stando i messaggi sono molte c'era preoccupazione inizialmente per quanto riguarda le nuove misure e regole introdotte dal governo circa la richiesta di tampone obbligatorio ai confini prima di fare rientro in italia e poi della quarantena per cinque giorni per le persone non vaccinate ma abbiamo una deroga è proprio sul confine quello di trieste tra italia e slovenia pieno egite salvo pure il lavoro trasfrontalieri saranno ufficialmente esclusi da questa misura per frenare la variante omicron non ci saranno test non c'è la quarantena se si rispettano però le condizioni ovvero i tempi e la distanza di 60 chilometri l'ordinanza prevede cinque giorni di isolamento per tutti gli altri quindi per le persone che non hanno la vaccinazione in italia e un tampone per i vaccinati valida fino al 31 gennaio esclusi trasfrontalieri con le connotazioni di dati che abbiamo tra l'altro appena riferito di puzzere abbiamo parlato della manifestazione di pordenone saltiamo e andiamo direttamente a parlare di navi e di crociere legate alla città 2022 trieste raddoppia turisti e toccate con monfalcone ttp prevede che i passeggeri salgono a 424 mila unità arrivi partenzi che potranno superare la quota 200 oggi un approfondimento speciale legato proprio a due intere pagine dove si parla esclusivamente di questo all'interno del quotidiano il piccolo noi entriamo un attimino invece andiamo in città si parla di cabino via avevamo annunciato che ci sarebbero stati tre giornate insomma una 48 72 ore di approfondimento e confronti sulla cabino via centro carso si accende il dibattito tra coloro che sono favorevoli e contrari il comune spiega perché ritiene ideale per togliere traffico dall'accesso nord in sala dagli interventi della platea critiche ma anche richieste di soluzioni alternative a questa idea e progetto l'amministrazione giudica impossibile puntare su ferrovia già satura di traffici aggiungono oppure da parte della linea tramviaria oltre a questo si parla pure della due ruote ovvero bicicletta pedalando sulle bici per accendere le luci dell'albero natale è l'idea dell'associazione fuori orario in piazza cavana due postazioni a disposizione di tutti un messaggio che intreccia l'ambiente il sociale e la salute saltiamo le guide proprio alla salute un inserto oggi contenuto all'interno del giornale e andiamo invece con il presepe stiamo parlando di piazza unità decapitata tra i ragazzi una statua e una pecora siamo alla cronaca l'atto vandalico è avvenuto davanti al municipio l'azione è stata però registrata dalle telecamere di video sorveglianza le indagini da parte della polizia locale di piazza sindaco dice è un gesto sconsiderato questo è quanto insomma è accaduto e se ne occupa anche oggi il giornale per quanto riguarda il piccolo andiamo a chiudere invece con un'ultima notizia prima di spostarci nell'isontino il primo sito web bilingue che dialoga con i cittadini è del comune appunto di duino online da oggi il sindaco pallotta ha illustrato questa novità lo spazio redatto in italiano ma poi anche in sloveno servizio online è anche un linguaggio che sarà lontano dai tecnicismi per cercare di dare accesso un pochino a tutti anche chi ha meno confidenza competenze con l'online ed il web allora detto questo siamo pronti anche per vedere un paio di minuti cosa succede in provincia di gorizia salutando le persone collegate pure insomma da queste zone territorio e l'intero isontino andando proprio all'interno del quotidiano per farlo quindi partiamo dalla prima pagina legata all'approfondimento si va verso le elezioni comunali nel 2022 ziberna bis e la corsa in comune ancora italia e insieme gli outsider già due nomi pronti a pescare voti ai maggiori schieramenti e poi centro-sinistra che deve decidere proprio su maran nella pagina vicino leggiamo la presentazione invece del sito il comune che segue 1453 anziani servizi dedicati che arrivano direttamente sul web perché il comune di gorizia va ad arricchirsi di una nuova sezione dedicata esclusivamente a loro agli anziani saranno indicati numeri di telefono all'interno moduli in pdf da scaricare compilare rispedire velocemente senza coda sportelli o presenza fisica svolgimento di tante richieste ma poi ancora tanti altri nuovi servizi che appunto sono stati e vengono ancora presentati già sotto ufficiale dell'esercito la cronaca è morto in casa narciso randò per due mandati fu in municipio è stato un lungo protagonista della vita politica goriziana oltre che apprezzato sotto ufficiale della brigata pozzuolo del friuli vediamo l'immagine oggi in tanti piangono narciso randò morto improvvisamente nella sua abitazione con ogni probabilità si è trattato di un arresto cardiaco saltiamo anche qui allora prima di arrivare a monfalcone le guide della salute l'inserto contenuto nel quotidiano del gruppo jedi e allora eccoci in città in municipio uno sportello dedicato a locazioni acquisto immobili sarà attivo da metà del mese di gennaio 2022 lo gestirà la tecno immobiliare gabbiano che ha vinto il bando proprio da parte della stessa amministrazione comunale sarà indirizzato alle fasce più deboli che non hanno pure l'accesso all'ater si parla anche invece di sicurezza con il titolo che riporta i furti sotto l'albero ritornano le case svaliggiate in città e paesi incursioni via flavia ad aris volatilizzati soldi monili sparita pure una maserati in questore gruppuzzo va a rompiano di prevenzione h24 polizie carabinieri saranno così rinforzati ora i controlli andiamo invece a chiudere in questo caso con l'isola del sole siamo infatti a grado il barbiere armando ha chiuso il salone tra tanti vip tra i clienti 80 anni dopo ben 62 anni di attività a lui si sono affidati in passato diversi personaggi famosi che oggi all'interno dell'articolo e poi vengono approfonditi e anche citati noi ci dobbiamo fermare perché siamo prontissimi con la prima mezz'ora ormai scaduta della nostra trasmissione questa è la rassegna stampa che ritornerà tra un paio di minuti con la seconda parte riapriremo per quanto concerne invece quello che stiamo seguendo in diretta ovvero la scomparsa di una persona alla tisana in provincia di unie nella bassa friulana tra un po ripeteremo l'appello che abbiamo dato alle 6 e 30 in apertura con il volto alcune immagini e gli aggiornamenti che arrivano da parte delle forze dell'ordine e protezione civile che questa notte appunto sono usciti per le ricerche tutto questo però prima beviamoci un caffè insieme facciamo una piccola pausa e poi torniamo qui in diretta allora ancora buongiorno buongiorno roberto buongiorno signor roberto il signore che state cercando l'ho visto io alle ore 15 e 40 all'incrocio della statale 14 andava a san michele al tagliamento era di fronte alla farmacia comelli a san michele allora mi arriva un messaggio che poi chiaramente vado ad inoltrare a chi di competenza allora ragazzi buongiorno a tutti 701 come state 16 dicembre saluto chi ci segue sul web a chi è rimasto collegato sui social vedo tante persone oggi su facebook molte altre si collegano più tardi anche su youtube e poi la replica alle 8 e 30 abbiamo analizzato un po di tutto ma ci manca in particolar modo la possibilità ora di ripartire dal gazzettino che sarà appunto il giornale col quale tratteremo la seconda parte non solo per poi spostarci nuovamente sul messaggero veneto partendo dalle info dalla città di udine con la nomina di del presidente quindi benedetti volevo dire di confindustria udine lo approfondiremo un attimo vedremo come è andata e poi però prima subito alla ripartenza in tv tra pochi secondi andremo con l'appello per la ricerca dell'uomo scomparso alla tisana di cui appunto appena ricevuto tra l'altro un messaggio che poi leggerò anche in diretta rispetto a qualcuno che lo ha individuato ma ancora non ci sono novità circa appunto gli aggiornamenti della notte perché protezione civile vigili del fuoco forze dell'ordine hanno continuato le ricerche nelle ore appunto nelle prime ore della notte fino almeno alle ore 3 così come ci hanno riferito detto questo facciamo un po di saluti a persone che continuano a scriverci saluto in questo caso invece alessandra che ci scrive tra le per la prima volta perché lei è collegata abbiamo dalla palma da palmanova alessandra buongiorno roberto grazie per la preziosa informazione tutti i giorni vi seguo con interesse ora devo accompagnare mia figlia a scuola grazie allora posso fare un saluto a quanti purtroppo ci devono lasciare dopo le 7 7 27 e mezza perché è il momento proprio in cui staccano e dicono a dispiacere a malincuore perché vanno ad accompagnare i figli a scuola sarà ben più importante insomma però allora vi auguro una buona giornata a voi in bocca al lupo per la scuola e la vostra attività abbiamo altri messaggi allora dai facciamo ancora un po di saluti flash rossella rosselle collegate da martignacco dice roberto buongiorno grazie per l'informazione questa mattina riesco a seguirvi solo fino alle 7 solitamente sono collegata con voi durante la replica buongiorno rossella non ci dice che impegni ha non ci fa sapere chissà se sta andando al lavoro lei che ci segue solitamente durante la replica oggi invece ha staccato poco fa perché il messaggio è proprio delle 6 e 58 anche se adesso sono le 7 03 e martina mi dice che mancano meno di 20 secondi per ripartire in diretta faccio un saluto anche a giada giada è collegata con noi invece da codroipo e ci dice buongiorno è vergognoso quanto sta succedendo pure il limite al confine non dovevano farlo questa è una considerazione rispetto alla nuova ordinanza di speranza ma torniamo allora con la seconda parte in televisione digitale terrestre canale 11 se volete accendere la tv riparte news cappuccino broscia ancora buongiorno alle persone collegate con noi siamo alla seconda parte ormai della nostra trasmissione la mezz'ora che così ci divide dal termine di questa edizione del 16 dicembre 2021 tanta l'informazione con la quale abbiamo oggi appreso ma poi soprattutto ci siamo confrontati grazie ai vostri messaggi altri ne arrivano rispetto poi la notizia di cronaca che stiamo seguendo in tempo reale arriva un messaggio al nostro numero whatsapp che in sovimpressione dice buongiorno signor roberto il signore che state cercando l'ho visto ieri alle 15 e 40 all'incrocio statale 14 andava verso san michele al tagliamento era di fronte alla farmacia comelli di cosa stiamo parlando per chi si è sintonizzato solo negli ultimi minuti abbiamo ricevuto dalle forze dell'ordine un appello da condividere l'uomo che vedete proprio qui in questo momento è mario barban classe 1946 residente alla tisana siamo nella bassa frulana in provincia di udine ieri pomeriggio è uscito come di consueto per una camminata dalla sua abitazione dove non vi ha fatto però alla sera più rientro sono così scattate le immagini che vediamo sono grazie alla protezione civile di ronchis e la tisana e tutta la bassa lignano che stanno cercando l'uomo ancora una volta appunto diversi messaggi che sono arrivati sia noi in redazione ma anche ieri alle forze dell'ordine con la segnalazione di averlo individuato tra l'ore 16 e l'ore 17 proprio mentre camminava sul ponte che collega la città di la tisana con san michele al tagliamento proprio in direzione della stessa città del veneto orientale le ricerche si sono protratte per tutte le prime ore nel cuore della notte ma non ci sono ulteriori aggiornamenti noi condividiamo l'appello ancora una volta per andare quindi a mostrare il volto dell'uomo se ci saranno novità saremo pronti a interrompere la rassegna stampa e a darle in tempo reale detto questo noi dobbiamo procedere assolutamente con l'analisi dei quotidiani in edicola oggi 16 dicembre virus la situazione gazzettino scuola volantino novax allo stringer di udine gli istituti si dicono in difficoltà a trovare supplenti l'abbiamo mai confermato riferito molte volte l'obbligo è scattato ieri 15 dicembre non solo ovviamente per il personale anche delle scuole ma militari forze dell'ordine contratti ballerini così dicono e non è facile trovare le persone che possano rimpiazzare questi prof pochi sono i candidati c'è chi arriva al 15 per cento del personale senza il green pass è rafforzato che come sappiamo è uno strumento ormai necessario vincolante per poter svolgere le lezioni poco più in là invece proseguono i controlli anche fuori dalle scuole la stangata da 600 euro arriva ad una palestra responsabile che era senza il pass le verifiche sono state fatte protratte a campione in cinque attività di fitness su sette bus che sono stati passati allo scanner c'erano ben 45 passeggeri oggi si approfondisce la notizia legata alle indagini diciamo così verifiche meglio chiamarle rispetto alle forze dell'ordine e la regolarità degli stessi certificati verdi a palazzo d'orta udine ci sono più di 3000 anni di storia questo è quanto ci riferiscono con la nota legata al primo cittadino dice sindaco vogliamo far rivivere il centro storico il recupero seguito dalla sovrintendenza vari ritrovamenti ancora razzie dei ladri in provincia in azienda pavia di udine segna un colpo che avrebbe fruttato un bottino ingente parliamo di 25 mila euro è un raid che è stato portato in termine a premariacco altri 15 mila euro altri episodi in abitazioni anche nel comune di rive d'arcano insomma non si fermano le scorribande dei ladri tra abitazioni ma anche come abbiamo visto nelle aziende frulane negli ultimi tre giorni si è allungata la lista di questi blitz su tutto il colpo più grosso che quello arrivato proprio da pavia di udine con questo bottino di 25 mila euro vediamo il volto giampietro benedetti è alla guida di confindustria è ufficiale è stato eletto ieri nell'assemblea dei delegati che si è riunita proprio nella sede dell'associazione a palazzo torrianni vicario petrucco vice mareschi danieli e feragotto nello staff ci sono però anche figure specifiche sui temi nodali continueremo a parlarne tra un po' quando passeremo anche il messaggero veneto proprio dove la città di udine la sezione dedicata alla provincia apre con la notizia quindi di benedetti alla guida di confindustria lo vediamo anche tra un po' ora proseguiamo con la legge di stabilità che entra nel vivo perché è stato approvato a maggioranza l'articolo sulle attività produttive via libera anche al documento economico finanziario discussione generale sull'impianto della norma un bilancio ricco come non se ne vedevano da anni questo al commento la nota con tanti tanti soldini vediamo il rinnovo quindi dei patti finanziari con lo stato che lascerà nelle casse dell'ente 2 miliardi di euro in cinque anni la minoranza non ha nascosto le sue perplessità sull'utilizzo anche di un budget davvero così cospicuo parliamo di lupi perché i lupi ci confermano ci sono sono tornati nella nostra regione ieri abbiamo anche parlato e riferito di un caso di cronaca come dice il titolo del gazzettino oggi in edicola dopo l'aggressione del lupo nero abbiamo un esposto in procura dopo l'intervento del sindaco di malborghetto con prefetto e forestali si è mossa federcaccia l'autorizzazione alla cattura dell'animale è stata data il 6 maggio scorso dal ministero nel frattempo ancora vediamo che si studiano gli spostamenti legati a questi animali fotografati anche in zona presnig questa foto scattata 7 gennaio scorso condividerà su un profilo facebook amanti della montagna friulana ma non solo filmati sono stati registrati pure in val saizra dopo il filmato di alcuni operai di paularo proprio qui a ottobre l'allarme di arci caccia fvg sulla protezione proprio di questa specie animale poi invece per riassumere la notizia già riferita nella giornata di ieri la vittima dell'aggressione patrick buzzi eccolo qui in foto con il suo briggs l'8 dicembre per difendere dall'attacco di un presunto ibrido nero appunto di lupo è stato ferito morsicato proprio dall'animale andiamo ancora per quanto riguarda invece informazione saltiamo lo sport dell'udinese invece torniamo come promesso nel messaggero veneto prima di entrare nel cuore delle cronache della provincia di udine e anche città torniamo anche con alcune immagini su quella che è la notizia di benedetti che va vola alla presidenza con 263 si su 386 votanti si riparte dalla divisione l'assemblea di confindustria e ratifica la proposta del consiglio direttivo il neolider fusione regionale solo se non sarà un'operazione di facciata la notizia l'abbiamo quindi già confermata poco fa sia nelle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola ma anche nel gazzettino vediamo allora alcune immagini così a completamento con giampietro benedetti insieme al vice petrucco dino ferragotto anna mareschi danieli quindi andando verso destra e poi accanto una parte dei delegati che erano presenti ieri durante l'assemblea ma abbiamo nella pagina vicino eccola qui volevamo insomma anche integrare rispetto a quella che sarà la squadra il gruppo di lavoro chiamiamolo così piero petrucco sarà il braccio destro di danieli a cancelliere la delega per la valorizzazione del lavoro rosa vediamo poi tutte le altre immagini a pochino più a destra e poi masotti che si occuperà infatti di logistica marco bruseschi di energia tonon avrà poi il compito di studiare lo snellimento dello statuto ed ora invece siamo pronti per partire dalla città di udine partiamo con queste prime due pagine poi ci fermiamo per l'ultima breve pausa banca intesa chiuse quattro sedi in piazza duomo soltanto uffici nessun contraccolpo fortunatamente per il personale il punto di riferimento per il pubblico sarà in via del monte quattro mesi e altrettante quattro chiusura a settembre l'addio allo sportello del terminal nord il mese dopo lo smantellamento della sede che si trovava in via le forze armate dal lunedì sono chiuse al pubblico le casse di via l'europa unita e di piazza duomo dove tuttavia però rimarranno alcuni uffici questa è la principale news che apre la città udinese andiamo invece con il restauro perché è stato recuperato un pezzo di storia parliamo del centro che va a riscoprire palazzo d'orta lo storico edificio è stato completamente ristrutturato sono stati ricavati bene cinque appartamenti un ufficio nell'altro le teche con reperti archeologici che sono stati ritrovati proprio durante i lavori che sono stati quindi risalenti datati addirittura alla preistoria chiudiamo la news con alcune immagini la prima chiaramente in alto il palazzo ma poi anche gli interni durante l'inaugurazione poi come abbiamo visto sopra la facciata vista dal terapieno che tutti conosciamo di piazza libertà proprio nella città di udine con questo allora ultima come annunciato veloce flash pausa se non l'avete fatto avete il tempo di prendere un caffè o accendere la mocca continuiamo a fare colazione insieme tra un po ancora rassegna stampa ci sposteremo andremo con le cronache in tutta la provincia analizzeremo montagna medio friuli bassa friulana per poi chiudere anche con uno sguardo al por di nonese grazie al gazzettino vi aggiorneremo circa una persona scomparsa alla tisana bassa friulana provincia di udine si cerca un uomo classe 1946 uscito di casa ieri sera dove non vi è fatto più ritorno se ci sono novità interrompere e entreremo nuovamente in diretta tutto questo però tra poco allora buongiorno a tutti ancora tanti tanti messaggi vi ringrazio davvero per l'affetto buongiorno micaela ci sei ci sei anche tu ti sei svegliata grazie per le stelle buongiorno cara grazie per il messaggio davvero di cuore sempre vicina sempre con noi e come si come tutti gli altri non riesco a citarli tutti ma riceviamo tanto affetto con le persone che puntano la sveglia la mattina per farci compagnia mi fa davvero tanto tanto piacere allora dicevo che dovevamo ripartire dalla montagna e ripartiremo proprio ancora una volta con questa storia dei lupi dell'aggressione a mal borghetto eccetera quindi ripartiremo da lì sto preparando la pagina affinché siamo pronti e mi possa dedicare ora un momentino all'analisi dei vostri tanti tanti messaggi allora saluto invece la lucia lucia che è collegata con noi da udine dice roberto buongiorno vi seguo tutte le mattine non riesco a comprendere come una persona possa uscire di casa e non fare il ritorno sicuramente si tratta o di malattia o di un incidente non lo sappiamo lucia non lo sappiamo chiaramente il nostro compito e veicolare il messaggio e far sì che al più presto la persona si possa ritrovare va bene poi ancora messaggi legato a pordenone l'assalto all'ospedale non si è trattato di un assalto qua si stanno ripetendo dice ma semplicemente volevano manifestare contro il personale sospeso va bene noi leggiamo i messaggi di tutti noi però ci attendiamo a quanto riferiscono le forze dell'ordine secondo la questura insomma la notizia che abbiamo dato poco fa era quella completa che abbiamo già trattato però nella prima mezz'ora va bene tutto a poi altri messaggi ancora salutiamo max che è collegato con noi invece da codroipo medio friuli dove tra l'altro andremo tra un po mentre proseguiremo l'informazione l'analisi dell'intera provincia grazie al messaggero e max che oggi mi dice roberto buongiorno grazie accompagnerò mio figlio a scuola alle 7 30 se posso ti seguirò fino al termine va bene dai vediamo se ce la fai nessun problema altrimenti se non lavori il mattino ricordiamo replica puntuali otto e mezza oppure se è una smart tv e vuoi metterti comodo mediante youtube e app ormai credo che tutti lo sappiano fare è possibile trasmettere anche da questa diretta pure su facebook l'immagine il video direttamente in televisione per chi è comodo e non riesce a seguirci sul digitale terrestre oggi tante le informazioni vedo che ci siano tanti messaggi poi legati alla questione del tampone obbligatore al confine come ad esempio dice annalisa che ci si vede a palmanova che riporta fa bene l'unione europea a storcere il naso quando si vedono le persone vaccinate obbligate a fare anche il tampone come i non vaccinati mi dite il senso e fa questa domanda annalisa dice qual è il senso di aver introdotto appunto per le persone vaccinate un tampone come per per coloro che non l'hanno ricevuto ma non è l'argomento di adesso perché martina mi dice che siamo per tornare in televisione mancano pochi secondi ancora informazione ancora rassegna stampa buongiorno siamo al 16 dicembre 2021 rassegna stampa che ormai è arrivata a oltre 45 minuti e con questi 12 13 disposizione abbiamo la possibilità di chiudere il cerchio proprio riguardo i principali argomenti notizie rilevanti della giornata partendo dalla montagna come già in sovimpressione malborghetto la vicenda del lupo e della persona aggredita per poi parlare di medio friuli e bassa friulana oltre a questo stiamo seguendo anche le ricerche di un uomo scomparso la tisana del quale riferiremo tra poco andiamo allora con a completare l'informazione come si diceva grazie al messaggero veneto vediamo partiamo dalle immagini da sinistra patrick buzzi che abbraccia il suo cane briggs e mostra il punto in cui ha visto l'animale che si aggirava davanti alla porta di casa destra ancora la ferita rispetto al morso che ha ricevuto sulla mano vediamo insieme sotto il titolo e la news e temevo che quell'animale mi ammazzasse al collo il racconto del 23enne patrick buzzi che si è ritrovato la bestia davanti alla porta mi ha morso la mano l'ho cacciato fuori da casa usando un manico di scopa andiamo invece ad ampezzo notizie flash in breve l'impresa al femminile nei territori montani nasce un osservatorio domani a proda palazzo unfer il giardino dei dialoghi a confronto ci saranno donne impegnate nell'impiego pubblico ma anche in quello privato il collinare san daniele del friuli le elementari di villanova diventeranno anti sismiche gli alunni e pronti in trasferta sono fondi arrivati da parte della regione nei giorni scorsi parliamo di 77 mila euro che serviranno quindi a pagare sostenere il progetto esecutivo dell'intervento di ristrutturazione della scuola primaria di villanova che frequentata da almeno 76 ragazzi a tercento invece si parla della comunità di montagna 5 milioni per le scuole affinché siano anche più sicure come abbiamo appena visto per san daniele situazione critica all'usevera da demolire e ricostruire le elementari la palestra poi sindaco steccati dichiara stabilite le priorità con i colleghi ci rivolgeremo alla regione il colpo a pavia di udine ancora furti per quanto concerne malviventi in azione sia nelle case sia in azienda nella zona industriale il furto rubati 40 chilogrammi di argento per quasi 30 mila euro e poi a basiliano abbiamo il lutto oggi l'addio a edi pascolo il nonno di basiliano così come viene definito l'uomo a 101 anni di cui si vede pure il volto pubblicato ed era la più anziano dell'intero paese dopo la guerra ha lavorato per l'esercito i funerali si terranno proprio oggi nel duomo di variano a prima riacco l'azzurra invece è in lutto ancora notizie di cronaca oggi per la morte di marco bon stiamo parlando del 67 imprenditore ex giocatore presidente di una società di calcio era ammalato da tempo ideò il torneo dei borghi ricordo del sindaco a margine del luto dice è stato un pilastro del nostro vivere in comunità a prima riacco ancora furti stiamo parlando di gioielli per 12 mila euro che sono stati rubati in una villetta ladri in azione quindi nel pomeriggio di martedì dalle parti di via ponte romano furto in una villa dove appunto i malviventi hanno fatto razzia ed è stata la padrona di casa al rientro in abitazione non c'era nessuno quando si accorta ed è scattato la chiamata al numero dell'emergenza mancano dipendenti siamo al distretto della bassa frilana san giorgio di nogaro l'ufficio sanitario non riapre san giorgio e palmanova servizio chiuso dal 25 ottobre i sindacati sono molto preoccupati il direttore generale caporale stiamo formando il personale va quindi a rassicurare chiuso per carenza di personale questo è il cartello questa è l'indicazione che dal 25 ottobre scorso 2021 è appeso proprio nel comune che abbiamo appena visto e nominato assieme ora andiamo invece a chiudere con l'ultima pagina legata alla bassa frilana abbiamo a terzo da qui lei alla giunta che dice no al parco fotovoltaico l'appello alla regione progetto si sviluppa su tre aree per complessivi 50 ettari sindaco e assessori serve equilibrio tra la tecnologia e le culture ed ora chiudiamo invece con la tisana dove appunto anche il giornale va a divulgare l'appello rispetto alla persona scomparsa del quale stiamo parlando dalle 6 30 di questa mattina con gli aggiornamenti in tempo reale anche da parte delle forze dell'ordine protezione civile per quanto riguarda il piano della ricerca delle persone scomparse che è stato attivato per questo 75enne sicchiata di mario aldo barban residente alla tisana allontanato dall'abitazione si legge nel pomeriggio di ieri e non più rientrato a dare l'allarme è stata la moglie che ha subito allertato alle forze dell'ordine sul posto carabinieri di la tisana vigili del fuoco e di portoguaro è stato quindi il piano provinciale di ricerca attivato immediatamente delle persone scomparse attivo anche il nucleo saf oltre al soccorso alpino fluviale allora detta questa notizia procediamo quindi anche con l'immagine dell'uomo come tra l'altro avevamo promesso velocemente vi ricordiamo ancora quindi il nome dell'uomo classe 1946 mario barban siamo a la tisana ma le ricerche si stanno concentrando a confine con il veneto orientale in quella città san michele al tagliamento dove l'uomo sarebbe visto proprio camminare transitare sul ponte sul fiume tagliamento e proprio mentre si dirigeva tra le ore 16 e le ore 17 indicativamente sono le prime foto immagini che ci arrivano grazie alla protezione civile che scese in campo durante la notte di ronchis di la tisana e non solo oltre ai vigili del fuoco come vediamo in una foto scattata durante la notte vi stiamo mostrando tutti gli aggiornamenti saranno dati anche da parte nostra prontamente appunto anche nelle prossime trasmissioni noi ora però dobbiamo ancora una volta procedere con l'informazione e ci dobbiamo anche spostare è il caso di andare invece nella destra tagliamento dando il buongiorno a coloro che ci seguono pure dal pordenonese andiamo con pordenone perché a farla da padrone oggi nell'informazione è diciamo l'operazione portata a termine dalla dagli uomini della questura della città rispetto a quello che è successo ieri e con la manifestazione non autorizzata davanti all'ospedale il questore così li abbiamo bloccati a suo dire le persone almeno 100 volevano occupare la direzione sanitaria del nosocomio un centinaio di novax riporta il sottotitolo volevano occupare direzione generale polizia che intercettato sui social e li ha prontamente fermati alle sette e mezza il piazzale esterno del santa maria degli angeli era già presidiato quindi dalle forze dell'ordine e il blitz che è andato in fumo andiamo in centro pagina cambiamo argomento oppure non è la corsa all'assistente familiare il titolo badanti e colf abbiamo rischio sospensioni numeri esatti nessuno li conosce nel dettaglio ma riporta il giornale certo che sono tante le badanti e colf che sono ancora senza il green pass e tante famiglie hanno difficoltà a riuscire a sostituire queste che attualmente non sono e non sarebbero in regola con nuove assistenti questo boom nel pordenonese vandalismi non si fermano rubati tutti i libri e le casette sono state distrutte sono oltre 5.000 i volumi che mancano l'iniziativa stava funzionando da oltre due anni lo vedremo però tra un po all'interno allora iniziamo a sfogliare il gazzettino di pordenone andiamo partiamo con la digos che intercetta un tam tam di messaggi sui social quando organizzano un blitz all'ospedale ma loro polizia si fa trovare pronta volevano occupare quindi la sede della direzione l'allarme è scattato alle 7.30 del mattino due ore dopo 60 poliziotti al presidio delle strutture cittadine per impedire le intrusioni la manifestazione leggiamo per quanto concerne proprio la nota del giornale non era autorizzata il portuale stefano puzzer è stato allontanato per tre anni secondo il questore marco odorizio stefano puzzer richiamato dalla digos quando arrivato dopo le ore 12 quando la manifestazione stava scemando si è intrattenuto ancora con le persone quando sarebbe dovuto procedere immediatamente in questura per lui come abbiamo appena letto foglio di via allontanamento dall'intero comune per tre anni dopo il recente tra l'altro foglio di via che aveva già ricevuto dalla capitale da roma e ancora le parole del questore subito presidiati tre possibili obiettivi per evitare azioni di forza altre note l'arrivo delle forze dell'ordine vanifica l'effetto sorpresa come facevano a sapere tante cose questa è una delle domande poi sotto abbiamo un altro caso invece un preside che lascia il comprensivo perché contrario al green pass succede a fiume veneto parole affidate i social network la scienza la vera scienza non si permetterebbe mai di obbligare una persona a vaccinarsi senza aver fatto prima gli accertamenti sanitari questo uno dei tanti messaggi che l'uomo appunto preside avrebbe così divulgato anche a mezzo social lo ha fatto però usando un escamotage tipico della fronda novax almeno tanto quanto il repertorio ha lasciato quindi scuola di fiume veneto utilizzando un congedo per un assistente familiare su questo chiaramente chi di dovere non ci ha non è passato sopra poi andando a stabilire il provvedimento abbiamo l'amarezza invece del direttore generale polimeni per quanto riguarda quanto successo a pordenone loro là fuori noi al lavoro all'ospedale il vertice dell'asfo vaccini la svolta certi messaggi da farsi il segno della croce sindaco ciriani tentativo patetico un fiasco colossale nessun buon senso vediamo che oggi arrivano parole di denuncia da parte un pochino di tutti rispetto alla manifestazione almeno un centinaio di novax così definiti che volevano appunto occupare l'ospedale a loro dire vediamo momentino anche il bollettino legato invece alla giornata di ieri l'abbiamo già velocemente citato così quando abbiamo analizzato il messaggero ci sono stati questo boom di decessi 14 almeno così riferisce riccardi un picco della quarta ondata con contagi che crescono in un giorno e raddoppiano 810 nuovi casi covid ricoveri in discesa 30 le persone ricoverate nei letti di terapia intensiva 297 i ricoveri ordinari nelle aree mediche ma c'è molta preoccupazione l'abbiamo visto come a Pordenone provincia vi è un allarme legato all'assistente delle famiglie ovvero quelle che spesso vengono comunemente chiamate come badanti o colf che a due mesi dall'obbligo delle green pass non sono in regola tante famiglie sono perplesse hanno difficoltà a essere quindi a sostituire queste donne come datore di lavoro rischiano comunque attualmente fa sapere la polizia è un rischio di multa fino a 1000 euro chi in abitazione ha una badante senza un green pass valido nel caso in cui il certificato verde non si regola come previsto vengono entrambe sanzionate pesantemente lo sportello cis sono davvero pochi i contratti sospesi però è difficile sapere all'interno delle case qual è la situazione rimarcano nelle ultime settimane diverse collaboratrici si sono vaccinate il rebus però e sono legati i controlli nelle abitazioni dove sappiamo forze dell'ordine non entrano cantiere infinito ancora l'ultima notizia in via piave ora servono altri tre mesi in più approvata una variante di oltre 400 mila euro si è resa necessaria per maggior costi dell'opera saranno assegnati 65 mila euro alle società assegnatarie proprio della gestione degli impianti sportivi e allora siamo arrivati in fondo alla nostra rassegna grazie per averci seguito oggi 60 minuti intensi avete visto quante notizie alcune più rassicuranti alcuni importanti la nomina di benedetti ancora confindustria udine la sua nuova squadra tante cose buone ma anche tanta cronaca come la scomparsa dell'uomo che si continua a cercare con appunto veramente intensità alla tisana nella bassa e friulana ulteriori aggiornamenti sul nostro sito web oppure nelle prossime trasmissioni grazie martina martina beraldo è in regia si è occupata della parte tecnica grazie a lei una buona giornata martina e salutiamo le persone che ci hanno contattato ma soprattutto seguito con fedeltà appuntamento nelle prossime edizioni grazie a tutti